Grazie a Pizzardi, Ivan Muncibi, Emanuele Gaspare Bonaventura, Aurora Sciandra e Vincenzo Iapicaello sono i componenti del nuovo organo garante del Meetup Gela eletto dall'Assemblea degli Attivisti secondo il regolamento vigente. Nel corso della riunione inevitabilmente è stata affrontata la questione relativa alla situazione che si è venuta a creare a seguito della sospensione del sindaco Domenico Messinese dal Movimento 5 Stelle. A questo proposito il Meetup Gela Comune 5 Stelle si legge in una nota inviata alla stampa a firma di Grazia Pizzardi alla luce dell'impegno che il sindaco e l'amministrazione ha profuso in questi sei mesi per iniziare a dare risposta ai problemi determinati da vent'anni di mala politica che non è riuscita a dare alcuna prospettiva di nuovo sviluppo ai gelesi ritiene risibili e speciose le motivazioni per la sua sospensione dal Movimento adotte dallo staff di Grillo che ha fatto propri i precisi input di personaggi locali, provinciali e regionali che non amano Gela. Il Meetup Gela Comune 5 Stelle ritiene che la voglia di cambiamento espresso dai cittadini non sia venuta meno e il sindaco e la sua amministrazione senza miracolismi, leggiamo ancora nel documento, stanno lavorando per interpretarne la genuina richiesta senza tuttavia sventolare una bandiera che per alcuni attivisti avversi e qualche ex assessore è divenuto uno scudo per imbrigliare il sindaco in giochi di potere tendenti ad affermare interessi personalistici che nulla centrano con l'interesse generale della città. Arriva poi l'affondo nei confronti dei consiglieri comunali che hanno preso le distanze dal primo cittadino e dalla sua giunta. Il Meetup Gela Comune 5 Stelle con rammarico prende atto della decisione di quattro consiglieri del Movimento 5 Stelle che in consiglio comunale sono passati all'opposizione del sindaco, scrivono ancora i componenti del Meetup Gela Comune 5 Stelle tenendo un atteggiamento di contrasto all'amministrazione fin dai suoi primi passi. Consiglieri che tradendo il mandato ricevuto dai cittadini si sono accordati con una frazione del Partito Democratico per spartirsi le presidenze delle commissioni consigliare e i componenti del Collegio dei Revisori. Atteggiamento contrario a quello che è previsto nel programma elettorale presentato ai gelesi e ai principi costitutivi del Movimento. Il sindaco e la sua amministrazione hanno tutto il tempo necessario per dare attuazione e forza al programma di cambiamento presentato ai cittadini aprendo un confronto con tutti i consiglieri, le forze politiche, i movimenti civici e l'associazionismo attivo presenti in consiglio comunale nella città per agire nel comune intento di fare uscire la città dalla palude in cui si trova. Successivamente a questa fase dei comuni intenti si tireranno le somme e nel caso si darà il potere ai cittadini di esprimere il loro giudizio sull'amministrazione che si manifeste in un solo modo, le elezioni. Il Meetup Gela Comune 5 Stelle invita quindi il sindaco e la sua giunta ad andare avanti nell'attuazione del programma del Movimento 5 Stelle presentata agli elettori sapendo che in quel programma ci sono molte delle soluzioni per risolvere i problemi della città candidandola ad essere una bella, prosperosa e vivibile città di pace, porta europea del Mediterraneo, conclude Grazia Pizzardi. Dopo settimane di fuoco incrociato dunque per il primo cittadino arriva l'appoggio ufficiale con un documento del Meetup Gela Comune a 5 Stelle in attesa che il ricorso di Messinese avverso la decisione di espulsione dal Movimento 5 Stelle venga esitato. La partita dunque è ancora aperta.